una donna perché quelli del nord avevano rapito una donna menion rimase a scrutare attraverso il velo di pioggia gli occhi azzurri che lo guardavano stupiti non era una donna come tante altre era straordinariamente bella una pelle calda abbronzata lineamenti morbidi e delicati una sottile figura graziata in un abito di seta e i capelli o mio dio i capelli non aveva mai visto nulla del genere benché impregnati d'acqua e incollati al viso dalla pioggia le cadevano per le spalle in lunghi morbidi boccoli e lo strano colore un rosso un rosso profondo scintillava al grigiore del mattino per un attimo la guardò trassognato poi il dolore delle ferite lo riportò al presente e al grave pericolo che incombeva su di loro si alzò sussultando per il dolore delle ferite ai piedi mentre la stanchezza lo sommergeva al punto che temette di crollare a terra sfinito lottò contro se stesso mentre barcollava quasi come un ubriaco appoggiandosi alla spada per non cadere il volto spaventato della ragazza lo guardò attraverso un grigiore nebbioso poi fu in piedi accanto a lui sorreggendolo parlandogli a voce bassa remota lui lui scosse la testa e a noi inebetito sto bene sto bene ora non ti preoccupare le parole gli uscirono ingarbugliate confuse corriamo verso il fiume dobbiamo arrivare a kern ripresero ad avanzare attraverso la nebbia e la pioggia camminando rapidamente e talvolta barcollando sul suolo infido delle praterie manion ebbe l'impressione che il cervello cominciasse a schiarirsi e che le forze li ritornassero mentre procedeva nel cammino la ragazza a suo fianco le mani intrecciate intorno al suo braccio appoggiandosi a lui e sostenendolo allo stesso tempo con gli occhi penetranti scrutava il buio intorno a loro temendo di veder comparire i troll in agguato certo che non fossero molto lontani poi improvvisamente avvertì un nuovo suono rapido pulsante impetuoso era il mermidion in piena dopo le piogge che sommergeva le rive nella sua corsa verso kern anche la ragazza lo udì e gli strinse forte il braccio per incoraggiarlo qualche attimo dopo si trovarono sulla cima della piccola altura che correva parallela alla reva settentrionale del fiume il quale aveva già inondato gli argini bassi e continuava a salire manion non sapeva dove si trovassero nel rapporto a kern ma si rendeva conto che se avessero attraversato il mermidion nel punto sbagliato avrebbero perso completamente di vista l'isola la ragazza sembrava aver capito il problema e prendendolo per un braccio cominciò a avviarsi a monte agguzzando gli occhi attraverso la caligine manion lasciò che fosse lei a guidarlo guardandosi attorno ansioso nel timore di veder comparire gli inseguitori la pioggia aveva cominciato a diminuire e la bruma a diradarsi fra non molto al cessare della tempesta la visibilità sarebbe tornata lasciandoli in piena luce dovevano immediatamente tentare di attraversare il fiume in piena manion non seppe mai per quanto tempo la giovane donna lo guidasse lungo le rive ma infine si fermò indicando una piccola scialuppa ormeggiata contro il terrapieno erboso in fretta il giovane si assicurò al dorso la spada di lea e insieme spinsero l'imbarcazione nelle acque rapide del mermidion il fiume era gelido e l'urto degli spruzzi scagliati dalle onde straziò menion che prese tuttavia a remare selvaggiamente attraverso la corrente impetuosa che spesso afferrava la barca in un vortice e la portava via fu una battaglia selvaggia fra il fiume e l'uomo che sembrò proseguire all'infinito finché tutto si fece confuso e torpido nella mente di menion quel che successe poi non fu mai chiaro per lui ebbe la vaga percezione di mani che si tendevano per tirarlo fuori dalla scialuppa su una riva erbosa dove crollò in un torpore quasi simile alla morte sentì la voce dolce della ragazza che gli parlava e poi tutto divenne nero e sordo mentre egli scivolava nell'incoscienza vagava inquieto tra il sonno e la consapevolezza tormentato da una sgradevole sensazione di pericolo imminente che sferzava la sua mente sfinita imponendoli di alzarsi e di prepararsi a lottare per sopravvivere ma ma il suo corpo non era più in grado di reagire e infine egli cadde in un sonno profondo quando menion si svegliò era ancora chiaro e la pioggia cadeva in uno sgocciolio lento e costante da un profondo cielo grigio giaceva nel calore confortevole di un letto asciutto e riposato i piedi feriti ripuliti e bendati ormai era lontano il ricordo della corsa terribile per sfuggire ai troll la pioggia batteva pacifica contro i vetri delle finestre dai quali la luce del giorno penetrava illuminando le pareti di pietra e di legno si guardò intorno pigramente nella camera arredata con eleganza e comprese che non si trattava di un luogo comune ma di una residenza reale sul legno intagliato vi erano stemmi che menion sapeva appartenere ai re di callan horn per un attimo giacque tranquillo e studiò la stanza con silenzioso piacere lasciando che il sonno si disperdesse e la sua mente tornasse alla lucidità vide un insieme di indumenti asciutti posati sulla sedia accanto al letto e stava per alzarsi e vestirsi quando la porta si aprì e un'anziana domestica parve portando un vassoio di cibo fumante lo salutò sorridendo si avvicinò al letto e depose il vassoio in grembo a manion aggiustandogli i cuscini dietro le spalle e sollecitandolo a mangiare subito finché le vivande erano ancora calde stranamente ricordò a manion la propria madre una donna gentile premurosa che era morta quando lui aveva 12 anni indugiò finché lui non ebbe preso il primo boccone poi si volse e uscì di nuovo manion mangiava lentamente sentendo che le forze gli stavano ritornando solo quando fu giunto alla metà del pasto ricordò che non mangiava da quasi 24 ore o forse di più di nuovo scrutò la pioggia attraverso la finestra senza capire se fosse ancora lo stesso giorno o se fosse il giorno successivo non sapeva quando era in un lampo ricordò il motivo per cui doveva raggiungere kern doveva avvertire dell'imminente invasione dell'esercito del nord forse forse era già troppo tardi era ancora paralizzato dal pensiero quando la porta si riaprì e questa volta era la giovane donna che gli aveva salvato avvolta in un abito di colori caldi mutevoli le lunghe trecce rosse che scintillavano persino alla luce grigia del giorno piovoso era la creatura più incantevole che il principe di lea avesse mai incontrato il sorriso gli venne spontaneo sulle labbra e lei chiuse la porta dietro di sé e si avvicinò muovendosi con grazia al suo capezzale era incredibilmente bella pensò di nuovo il giovane perché l'avevano rapita che cosa poteva sapere di lei balinor che informazioni importanti avrebbe potuto dare ai troll se ne stava ora ritta accanto al suo letto guardandolo studiandolo per un attimo con gli occhi chiari profondi hai proprio l'aria di esserti ristabilito principe di lea sorrise il riposo e il cibo ti hanno ridato le forze e tu come puoi conoscere il mio la tua spada porta l'insegna del re di lea questo lo so chi altri se non suo figlio porterebbe una spada simile ma non conosco il tuo nome mi chiamo manion rispose il principe sorpreso che la giovane fosse a conoscenza del suo piccolo paese un regno sconosciuto a quasi tutti gli stranieri la fanciulla tese una mano sottile abbronzata per stringere la sua con un gesto di caldo benvenuto io sono shirl ravenlock e questa è la mia patria manion la città isola di kern se non fosse stato per il tuo coraggio mio caro manion non l'avrei mai più rivista per questo ti sarò grata e amica per sempre ma ora finisci il tuo pasto mentre parliamo sedette sul letto accanto a lui e fece cenno al giovane di continuare a mangiare lui fece per sollevare la forchetta poi ricordando l'invasione la lasciò cadere rumorosamente sul vassoio ascoltami ascoltami devi mandare un messaggio a tirsis a balinor immediatamente è cominciata l'invasione del nord è appena cominciata l'invasione del nord capisci il nemico è accampato proprio sopra kern in attesa in attesa di attaccare lo so lo so stai tranquillo lo interruppe shirl anche nel sonno hai parlato del pericolo ci hai già avvisati prima di svenire abbiamo già mandato un messaggero a tirsis pallans il fratello di balinor è reggente in assenza del fratello e il re è ancora molto malato la città di kern sta mobilitando le sue difese ma per il momento non vi è pericolo il mermidio ne impiena dopo le piogge e i grossi contingenti non possono attraversarlo saremo al sicuro finché non arrivano i rinforzi ma ma balinor doveva essere tornato a tirsis già da parecchi giorni ribatte manion allarmato che ne è della legione della frontiera è completamente mobilitata vero la ragazza lo guardò perplessa ignorava tutto della legione e di balinor bruscamente manion allontanò il vassoio e scese dal letto mentre anche shirl si alzava cercando di calmare il giovane eccitatissimo shirl tu credi di essere al sicuro su quest'isola ma non è così credimi non è così per nessuno di noi ho visto le dimensioni di quell'esercito e non c'è piena al mondo che possa fermarlo per molto tempo e un aiuto potrebbe arrivare solo per miracolo stava per sbottonarsi la camicia e vestirsi ma si fermò di botto ricordando improvvisamente la presenza della giovane donna le indicò la porta ma lei scosse la testa e gli girò le spalle per non vederlo mentre si cambiava tutto qua come è avvenuto il tuo rapimento chiese lui vestendosi rapidamente mentre studiava la figura snella in fondo alla stanza sai perché tu sei tanto importante per la gente del nord se non per il fatto che sei una bellissima donna sorrise con aria maliziosa con un po della vecchia spavalderia che flick detestava proprio sebbene non potesse vederla in volto manion era sicuro che stava arrossendo shirl rimase in silenzio per un attimo prima di parlare non ricordo esattamente quel che successe disse infine dormivo sono stata svegliata da un rumore nella stanza poi poi qualcuno mi ha afferrata e sono svenuta forse mi hanno colpito non ricordo ora non ricordo proprio mi hanno messo in bocca uno straccio impregnato di un liquido immondo che mi impediva di respirare sono svenuta e poi ricordo di essermi ritrovata sulla sabbia vicino al fiume immagino che fosse il mermidion tu sai che mi avevano legato in quella coperta ero cieca e quasi sorda non ho capito nulla di quel che dicevano tu e tu hai visto qualcosa manion scosse la testa stringendosi nelle spalle no niente di particolare aggiunse ricordando che la ragazza non lo stava guardando un uomo ti ha portato su una barca poi ti ha consegnato ai quattro troll non credo di averlo potuto vedere chiaramente ma penso che potrei riconoscerlo se lo incontrassi ancora perché non rispondi alla mia prima domanda perché volevano rapirti e girati pure ora sono vestito la giovane donna ubbidì e gli si avvicinò osservandolo incuriosita mentre si infilava gli stivali sono di sangue reale manion disse quietamente manion si interruppe e la guardò aveva sospettato che non fosse una comune cittadina di cairn quando aveva riconosciuto lo stemma di lea sulla spada ora forse avrebbe scoperto perché avevano tentato di portarla via dalla sua città vedi manion i miei antenati erano i re di cairn e per qualche tempo di tutta calla horn prima che i bucan ha arrivassero al potere circa un secolo fa io sono forse potrei dire che sono una principessa in congedo rise trovando buffa l'idea e manion sorrise mio padre è un anziano del consiglio che amministra gli affari interni di cairn il re governa calla horn ma la nostra è una monarchia illuminata e il re raramente interferisce nei meccanismi amministrativi di questa città sai suo figlio pallans prova attrazione nei miei confronti da qualche tempo e non è un segreto che si propone di sposarmi io io credo che per condizionare lui un nemico potrebbe tentare di colpirmi manion a noi senza commenti mentre un'improvvisa premonizione scattava nella sua mente lucida pallans non poteva ereditare il trono di calla horn se non accadeva qualcosa balinor nessuno mai avrebbe perso del tempo a esercitare pressioni sul figlio cadetto se non avesse avuto la certezza che balinor era stato eliminato di nuovo notò come scirla non fosse al corrente dell'arrivo del principe di calla horn un evento che doveva risalire a parecchi giorni prima e di cui tutti i cittadini del sud dovevano esserne informati sicuro shirla quanto tempo ho dormito chiese con ansia è quasi un giorno intero eri sfinito quando ci hanno tirato fuori dal mermidio ogni rimattina e ho pensato che ti avrebbe fatto bene dormire in più ci avevi dato quell'avvertimento e abbiamo perso 24 ore esclamò manion furibondo se non fosse stato per la pioggia la città sarebbe già caduta dobbiamo agire subito ma cosa potremmo farlo ascolta shirla tuo padre nel consiglio vero devo parlare con loro immediatamente l'afferrò per un braccio con insistenza vedendo che lei esitava non farmi domande ora fai come ti dico dov'è il municipio presto portami là senza aspettare che la ragazza lo precedesse manion la prese per un braccio e la spinse attraverso la porta verso il lungo corridoio insieme percorsero la casa vuota uscendo dal cancello principale su un ampio prato ombroso e proseguendo di corsa per sfuggire alla pioggirellina insistente del mattino mentre procedevano verso il municipio shirla chiese come mai fosse capitato da quelle parti ma manion le diede risposte evasive sempre reluttante a parlare con chissà chi di alanon della spada di shannara sentiva di potersi fidare della ragazza ma l'ammonimento che alanon aveva rivolto a tutti i membri della compagnia diretta paranor di non rivelare il retroscena della spada smarrita a nessuno gli impedì di confidarsi spiegò invece che doveva correre in aiuto di balinor dietro richiesta di quest'ultimo dopo aver appreso dell'imminente invasione dal nord lei accettò questa versione e manion si sentì in colpa per averle mentito del resto nemmeno alla non gli aveva mai detto l'intera verità e lui sapeva forse meno di quanto credesse avevano raggiunto il municipio le cui sale antiche si trovavano in un alto edificio di pietra circondato da colonne segnate dal tempo le guardie che se ne stavano tranquillamente vicino ai portali non li fermarono quando fecero irruzione nell'ingresso correndo per gli alti lunghi corridoi e su per la scala chiocciola mentre dalle pareti eccheggiava il rumore dei loro passi il consiglio si riuniva in sale situate al quarto piano e quando finalmente arrivarono davanti alle porte di legno shir spiegò a manion che prima doveva informare il padre e gli altri membri del suo desiderio di essere ricevuto riluttante il giovane principe acconsentì ad aspettare un po rimase quindi solo nel corridoio ascoltando in silenzio un mormorio sommesso di voci mentre i secondi scorrevano lentamente e la pioggia continuava a battere sul vetro delle finestre perdendosi per un attimo nella pace della solitudine dell'antica costruzione il giovane richiamò brevemente la memoria i volti dei suoi compagni amici ormai lontani da lui domandandosi cosa fosse loro accaduto da quando avevano lasciato la fortezza di paranor forse non si sarebbero mai più ritrovati insieme come nei giorni spaventosi del viaggio verso la fortezza dei druidi ma non ne avrebbe mai dimenticato il coraggio e l'abnegazione ne avrebbe dimenticato l'orgoglio che provava ora a aver affrontato e superato insieme a loro tanti pericoli persino il riduttante flick aveva mostrato un valore e una fermezza che manion non si sarebbe mai aspettato da lui e che ne era stato di sia il suo più vecchio amico scosse la testa mentre ripensava il compagno disperso gli mancava la personalità di sia quello spirito testardo e pratico e quelle convinzioni antiquate pareva che sia non vedesse il mutare dei tempi non capiva che i popoli della terra andavano nuovamente espandendosi che le guerre del passato stavano lentamente cadendo nell'oblio sia era convinto che si potessero volgere le spalle al passato e costruire un nuovo mondo col futuro senza però capire che il futuro era indissolubilmente legato al passato in un mosaico di eventi e di idee che non potevano mai essere completamente scomposte a suo modo anche il piccolo sea apparteneva a un'era che stava finendo le sue convinzioni erano un'eredità del passato piuttosto che una promessa del futuro come era strano come tutto quanto pariva incredibilmente bizzarro riflette improvvisamente menion fermo nel centro del corridoio immobile lo sguardo perso nelle profondità delle pareti di pietra segnate dai secoli sea e la spada di shannara entrambi appartenevano a un'era che stava lentamente morendo eppure erano la speranza di un nuovo tempo la chiave della vita le porte di legno della sala del consiglio si spalancarono alle spalle del giovane e i suoi pensieri svanirono mentre egli udiva la voce dolce di shirla immobile ritta sotto le travi massicce dell'ingresso sembrava piccola e vulnerabile con il volto bellissimo in piena ansia non c'era da stupirsi che pallans bukan ha la volesse per moglie menion andò verso di lei prendendole la mano e insieme entrarono lo colpì l'antica austerità della sala mentre avanzava nella luce grigia che sembrava scivolare stanca e indecisa attraverso le finestre a grate di ferro la sala del consiglio era vecchia e fiera una pietra migliare nella città isola venti uomini erano seduti intorno a un lungo tavolo di legno brunito con i volti stranamente simili mentre aspettavano che il giovane parlasse uomini anziani forse saggi e molto decisi solo gli occhi tradivano la paura inespressa paura per la città e per la propria gente sapevano quel che avrebbe fatto l'esercito del nord quando le piogge fossero cessate e le acque del mermidion si fossero ritirate nel calore del sole manon si fermò davanti a loro la ragazza sempre al suo fianco l'eco dei suoi passi che moriva nel silenzio carico dell'attesa scelse accuratamente le parole per descrivere i contingenti nemici che si erano riuniti sotto la guida del signore degli inganni riferì in parte la storia del suo viaggio verso calan horn parlando di balinor e degli uomini della compagnia che si era formata a culaven ora sparsi per tutte le quattro terre non parlò né della spada né delle misteriose origini di sea e nemmeno di alanon non ce n'era alcuna ragione era sufficiente che il consiglio sapesse che la città di kern correva il pericolo di essere invasa e mentre terminava rivolgendo un appello a salvare la popolazione finché erano in tempo evacuando immediatamente la città prima che ogni speranza di ritirata fosse perduta provò uno strano senso di soddisfazione aveva arrischiato assai di più della propria vita permette all'inguardia se non fosse riuscito a raggiungerli forse sarebbero periti tutti senza nemmeno avere una possibilità di fuga era importante veramente importante per il principe di lea aver svolto responsabilmente la propria missione e non appena il giovane ebbe finito piovero le domande dei membri del consiglio grida d'allarme a volte spaventate a volte furibonde e manion rispondeva rapidamente tentando di preservare la calma mentre gli assicurava che l'armata del nord era davvero mostruosamente grande e che la minaccia di un attacco era più che reale a grado a grado l'emotività iniziale si smorzò in una valutazione più razionale delle possibilità alcuni fra gli anziani credevano che la città dovesse essere difesa fino all'arrivo da tirsis di pallans bucan ha con la legione della frontiera ma la maggioranza era dell'opinione che una volta cessate le piogge l'esercito invasore avrebbe facilmente raggiunto le spiagge della città la quale si sarebbe ritrovata inerme manion ascoltava in silenzio mentre gli anziani deliberavano sulla questione soppesando mentalmente le iniziative che avrebbero potuto prendere infine l'uomo dai capelli grigi che shir l'aveva presentato come suo padre si rivolse a manion per parlargli a quattro occhi mentre gli altri proseguivano il dibattito hai visto balino il ragazzo sai dove si possa trovarlo sì certo deve essere giunto a tirsis alcuni giorni fa rispose con ansia manion stava andando là per mobilitare la regione della frontiera ed era in compagnia di due cugini di eventai nell'esedil il re degli elfi il vecchio scosse la testa costernato principe di lea devo dirti allora che la situazione è più disperata di quanto sembri il re di calanhorna rule bucan ha sia gravemente ammalato e le sue condizioni sono non sono buone e non sembrano migliorare balinor era assente dalla città e allora il figlio minore del re è diventato reggente purtroppo è sempre stata una personalità instabile ma negli ultimi tempi è parso decisamente stravagante uno dei suoi primi atti è stato quello di sciogliere la legione della frontiera cosa sciolta ha sciolto la regione della frontiera esclamò manion incredulo e perché perché l'avrebbe mai fatto semplice a lui pareva superflua lo interruppe l'altro così la sostituita con una piccola compagnia dei suoi uomini il nodo della questione è che si è sempre sentito sopraffatto dal fratello e la legione della frontiera era agli ordini di balinor per volere stesso del re e molto probabilmente pallans temeva che i soldati restassero fedeli al primo genito del re preferendolo a lui e sono sicuro che non ha alcuna intenzione di restituire il trono a balinor qualora il re muoia purtroppo non ha lasciato dubbi in merito i comandanti della legione della frontiera e diversi intimi amici di balinor sono stati arrestati e imprigionati il tutto è avvenuto con molta discrezione in modo che il popolo non si l'asse a un'azione tanto oltraggiosa il nostro nuovo re ha preso come suo unico consigliere uomo di fiducia un uomo di nome stanmin un mistico velenoso e intrigante che si cura soltanto delle proprie ambizioni e non del benessere del popolo e ma nemmeno di quello di pallans bukan ha non vedo proprio come potremo affrontare questa invasione mentre i nostri capi sono divisi e le nostre forze smembrate non so nemmeno se si possa convincere il principe della gravità della minaccia finché il nemico non compaia davanti ai cancelli aperti della città allora balinor corre un grave pericolo è andato a tirsis senza sapere che il padre è malato e che il fratello ha preso il potere dobbiamo avvertirlo immediatamente i consiglieri si erano improvvisamente alzati in piedi gridando accalorandosi nella discussione sulle misure da prendere per salvare la città condannata il padre di shirla si affrettò a tornare fra loro ma passarono diversi minuti prima che i pochi membri più calmi e assennati riuscissero a calmare i loro compagni affinché il dibattito potesse proseguire con ordine menion ascoltò per breve tempo poi lasciò che la sua attenzione ritornasse momentaneamente alle finestre e al cielo non era più cubo come prima e la pioggia era ancora diminuita indubbiamente il mattino dopo sarebbe cessata e la forza nemica campato oltre il mermidion in piena avrebbe tentato l'attraversata che prima o poi riuscissero ad approdare era fuori dubbio anche se le truppe numericamente assai inferiori avessero tentato di difenderla senza un grosso esercito bene organizzato che proteggesse la città la gente sarebbe stata massacrata e kern sarebbe caduta manion ripensò al suo congedo da alanon chiedendosi che cosa il druido avrebbe fatto al suo posto la situazione non era promettente tirsi si era governata da un usurpatore irrazionale e ambizioso kern era priva di capi i suoi consiglieri divisi e insicuri intenti a discutere su provvedimenti che avrebbero già dovuto essere in atto manion sentì che la calma gli veniva meno un nervosismo continuare a soppesare le alternative era pura follia consiglieri ascoltatemi la voce del giovane riecheggiò dalle antiche pareti in pietra mentre le voci degli anziani di kern si dissolvevano in un silenzio animato di sussurri non solo cala horn ma tutte le terre del sud mia e vostra patria sono condannate a sicura distruzione se non agiamo immediatamente immediatamente domani notte kerna sarà ridotta in polvere e la sua gente in catene la nostra unica possibilità di salvezza consiste nel fuggire a tirsis la nostra unica speranza di vittoria sul potente esercito del nord è la legione della frontiera riunita sotto la guida di balinor gli eserciti degli elfi sono pronti a combattere a nostro fianco e ventain li guiderà il popolo nano impegnato da anni nella guerra contro gli gnomi ha promesso di aiutarci ma dobbiamo separatamente resistere senza cedimenti finché non saremo di nuovo tutti uniti a combattere questa mostruosa minaccia alla nostra sopravvivenza hai parlato bene principe di lea rispose il padre di shirl ma aiutaci a trovare una soluzione al nostro problema immediato in modo che la gente possa raggiungere tirsis il nemico è accampato direttamente di fronte a noi sulle rive del mermidion e siamo praticamente inermi dobbiamo evacuare quasi 40.000 persone da quest'isola e portarle sane e salve a tirsis a miglia di distanza nel sud intubbiamente i nemici hanno già postato sentinelle intorno alle nostre rive per impedirci qualsiasi tentativo di attraversare il mermidion prima dell'aggressione a kern come possiamo superare tali ostacoli un rapido sorriso increspò le labbra di mannion attaccando per primi dichiarò semplicemente per un attimo calò il silenzio totale mentre tutti lo fissavano increduli e estere fatti quel volto apparentemente indifferente ma quando si prepararono a rispondere mannion alzò una mano per trattenerli un attacco è esattamente quel che non si aspettano e certamente non un attacco notturno una rapida incursione contro una postazione laterale se eseguita correttamente li confonderà facendoli credere nell'assalto di una forza potentemente armata l'oscurità e la confusione nasconderanno le nostre reali dimensioni l'attacco attirerà le sentinelle appustate intorno all'isola un piccolo commando potrà far molto rumore scatenare incendi e tenerli inchiodati per almeno un'ora forse di più in quel frattempo evacuerete tutta la città uno degli anziani scosse la testa in segno di disapprovazione neppure un'ora basterebbe anche se il tuo piano riuscisse a cogliere quelli del nord di sorpresa anche se riuscissimo a traghettare tutte le 40.000 persone dell'isola sulla spiaggia meridionale sarebbe poi necessario mettere le marce verso sud in direzione di tirsis quasi 50 miglia quasi 50 miglia capisci le donne e i bambini impiegherebbero giorni e giorni per coprire quella distanza e quando i nemici si accorgeranno che kern è stata abbandonata seguiranno la sua gente verso sud non possiamo sperare di sopraffarli perché dovremmo provarci perché ma non li dovrete sopraffare non li porterete a sud per terra li trasporterete lungo il meridion metteteli sopra un'imbarcazione zatter o qualsiasi cosa abbiate a disposizione o che possiate costruire entro la notte purché sia in grado di galleggiare il meridion scorre a sud inoltrandosi in calla a horn fino a 10 miglia da tirsis li sbarcherete e a quel punto tutti potranno facilmente porsi al riparo entro le mura della città prima dell'alba assai prima dunque che il lento e pesante esercito del nord possa mobilitarsi per seguirvi tutti i membri del consiglio si alzarono in piedi urlando la propria approvazione contagiati dall'ardore e dalla determinazione del giovane se vi era una benché minima possibilità di salvare il popolo di kern bisognava tentarla anche se la città stessa dovesse cadere in balia dalle ordine nemiche dopo una breve discussione il consiglio si aggiornò per mobilitare la popolazione attiva dell'isola da allora fino al tramonto ogni cittadino in grado di lavorare doveva contribuire alla costruzione di robuste zattere che potessero trasportare diverse centinaia di persone intorno all'isola erano sparse centinaia di piccole imbarcazioni usate per navigare sul fiume e approdare sul continente inoltre esistevano già diversi grossi traghetti che potevano essere messi subito in servizio menion suggerì che i consiglieri ordinassero a tutti i soldati armati della città di cominciare un pattugliamento attento della linea costiera non permettendo ad alcuno di lasciare l'isola i particolari del piano di fuga devono essere accuratamente tenuti nascosti il più lungo possibile menion temeva che qualcuno potesse tradirli tagliando così ogni via di fuga qualcuno aveva rapito uscirla nella propria casa portandola fuori dalla città trasportandola attraverso il fiume per consegnarla poi ai troll una missione che non poteva essere stata compiuta da qualcuno che non conoscesse bene kern o che vi ci abitasse chiunque fosse rimaneva libero e nascosto forse ancora al sicuro nella città se avesse appreso i particolari del piano di evacuazione avrebbe indubbiamente tentato di avvertire l'esercito del nord l'assoluta segretezza era dunque indispensabile il resto del giorno passò rapido per menion sia i compagni delle ultime settimane erano temporaneamente dimenticati per la prima volta da quando sia era andato da lui il principe di lea si trovava ad affrontare un problema che capiva a fondo un problema che richiedeva capacità alla sua portata il nemico non era più il re del teschio o gli spiriti che lo servivano il nemico era di carne e sangue creature che vivevano e morivano secondo leggi comune a tutti gli uomini e il giovane era in grado di valutarne analizzarne la minaccia il tempo era l'unico fattore fondamentale nel suo piano per sconfiggere tatticamente nemico e così egli si lanciò senza indugi nell'impresa più importante di tutta la sua vita la salvezza di un'intera città con i membri del consiglio sorvegliò la costruzione delle gigantesche zattere di legno che avrebbero dovuto trasportare i cittadini assediati lungo il mermidion ancora in piena verso il sicuro riparo di tirsis il punto d'imbarco era situato sulla linea costiera sud occidentale direttamente sotto la città vera e propria là si trovava un'insenatura ampia ma ben riparata dalla quale le zattere e le imbarcazioni più piccole potevano prendere il largo con la protezione dell'oscurità dalla riva del fiume di fronte all'insenatura si ergeva una serie di bassi scogli che correvano fino all'orlo del terrapieno menion pensò che una dozzina di uomini poteva guadare il fiume quando fosse cominciato l'assalto dell'accampamento nemico più tardi quella stessa notte giunti sulla riva avrebbero potuto agevolmente liquidare la piccola posizione di sentinelle che certo vi avrebbero trovato a quel punto le imbarcazioni le zattere avrebbero preso il largo seguendo la corrente lungo il ramo meridionale del mermidion fino a tirsis esisteva naturalmente la possibilità che le imbarcazioni venissero individuate ma non vi erano alternative menion credeva che se il cielo restava coperto e le postazioni di sentinelle venivano ritirate a monte del fiume per partecipare alla difesa dell'accampamento e se infine la gente se ne stava zitta sulle zattere l'evacuazione potesse riuscire ma purtroppo nel pomeriggio inoltrato la pioggia si ridusse a poca cosa e le nubi cominciarono a diradarsi lasciando filtrare sottili strisce d'azzurro nel grigio incombente la tempesta stava giungendo al termine e a quanto pareva le nubi sarebbero scomparse dal cielo notturno lasciando la terra esposta alla luce rivelatrice della luna nuova e di migliaia di stelle menion era seduto in una delle sale piccole del consiglio quando vide quei primi segni di schiarita che distrassero momentaneamente la sua attenzione dall'enorme carta geografica aperta sul tavolo davanti a lui al suo fianco erano due membri della disciolta legione della frontiera jean sempre l'ufficiale di grado più elevato di tutta l'isola e un veterano brizzolato di nome fandrez quest'ultimo conosceva la regione intorno a kern meglio di chiunque altro e era stato convocato per dare consiglio alla pattuglia che doveva preparare l'incursione contro l'esercito nemico jean invece sorprendentemente giovane per il grado che ricopriva era tuttavia un soldato deciso e intelligente con una dozzina d'anni di servizio attivo alle spalle era un fedelissimo di balinor e come menion era rimasto sconvolto apprendendo che da tirsis non erano giunte notizie sull'arrivo del principe precedentemente quel pomeriggio aveva scelto 200 veterani provenienti dalla disciolta legione della frontiera per formare una forza d'urto da dirigere contro l'accampamento nemico menion aveva offerto il suo aiuto che era stato accettato con entusiasmo il giovane principe soffriva ancora delle ferite e delle scoriazioni ai piedi e alle gambe procurate dalla penosa fuga con shirla ravenlock ma rifiutava di restare con la squadra addetta all'evacuazione tanto più che l'idea del finto attacco era stata sua flick avrebbe liquidato la sua insistenza come una stupida dimostrazione di caparbietà e di orgoglio ma menion lea non se ne sarebbe mai stato relativamente al sicuro sull'isola mentre si combatteva al di là del fiume aveva impiegato anni per trovare una causa degna di essere difesa qualcosa che andasse oltre la soddisfazione personale e il fascino irresistibile dell'avventura non avrebbe certo fatto da semplice spettatore mentre la più spaventosa minaccia che si fosse mai vista da secoli decimava la razza dell'uomo qui proprio qui vicino allo spin bar è il punto che dobbiamo sbarcare la voce lenta raschiante di fandrez interlupe i suoi pensieri concentrando di nuovo la sua attenzione sulla carta che aveva di fronte gian sempre approvò silenziosamente guardando menion per essere certo che ascoltasse con attenzione il giovane lui avranno appostato sentinelle per tutta la zona sopra il terra pieno disse se non elimineremo ci taglieranno ogni via di ritirata il tuo compito consisterà nel tenerle lontano da qua in modo che la strada resti sempre aperta dichiarò sempre manion aprì la bucca per obiettare ma venne immediatamente interrotto comprendo il tuo desiderio di venire con noi manion ma noi dobbiamo muoverci assai più rapidamente del nemico e tu non sei in grado di affrontare una corsa prolungata lo sai bene così la pattuglia sulla riva è tua tienici aperta la strada di ritorno alle barche e ci renderai un servizio maggiore che non unendoti a noi manion a noi seppure intimamente deluso voleva essere in prima linea nel profondo della sua mente nutriva ancora la speranza di poter ritrovare sia prigioniero nel campo nemico i suoi pensieri tornarono ad alla nonna e a flick forse avevano trovato il suo amico il druido aveva promesso di tentare il possibile scosse tristemente la testa sia sia perché doveva capitare uno come te uno che voleva vivere quietamente e in disparte era folle quella vita che gli uomini erano costretti ad accettare o con furia rassegnata o con ottusa indifferenza non poteva esservi soluzione definitiva se non forse nella morte poco dopo la riunione terminò e menion lea scoraggiato e triste uscì come trassognato dalle sale del consiglio senza quasi rendersene conto scese la scala di pietra dell'enorme edificio arrivando sulla strada e da lì si avviò verso la casa di shirl tenendosi vicino ai portici e alle mura qual era il senso di tutto ciò la minaccia del signore degli inganni incombeva davanti a loro come una barriera torreggiante insuperabile come potevano sperare di sconfiggere una creatura che non aveva anima che viveva secondo leggi di natura completamente staranee al mondo in cui erano nati perché un semplice giovane di un oscuro villaggio doveva essere l'unica entità umana in grado di distruggere un essere dotato di poteri così indistruttibili menion aveva disperatamente bisogno di capire qualcosa di quanto stava accadendo a lui e ai suoi amici assenti anche soltanto un piccolo frammento del mosaico enorme che formava il mistero del signore degli inganni e della spada di shannara improvvisamente si ritrovò davanti alla casa dei ravenlok i portali chiusi i chiavestelli di metallo freddi e come gelati nella nebbia grigia che si era condensata in fili di ghiaccio si allontanò rapidamente dell'ingresso perché non desiderava entrare preferiva la solitudine della veranda vuota lentamente percorse il sentiero di pietra inoltrandosi nel piccolo giardino di fianco alla casa le foglie e fiori bagnati dalle piogge degli ultimi giorni il terreno umido e verde rimase fermo immerso in pensieri confusi e malinconici cedendo per un attimo la disperazione avvolgente che lo prendeva quando pensava a tutto quello che aveva perduto non si era mai sentito tanto solo neppure quando andava a caccia lontano dalla propria casa e dai propri amici nella dimensione oscura e desolata delle montagne di lea qualcosa nel profondo del suo animo li suggeriva con triste insistenza che non sarebbe mai tornato quello di un tempo che non sarebbe mai tornato ai suoi amici alla sua casa alla sua vecchia vita chissà quando in quel vicino passato aveva perso tutto chissà quando scosse la testa mentre suo malgrado le lacrime li salivano agli occhi e l'umidità della sera li si chiudeva intorno e il gelo della pioggia li scorreva nella profondità del petto vi fu un rumore improvviso di passi alle sue spalle e una figura esile si arrestò silenziosamente al suo fianco i riccioli color ruggine ombreggiavano i grandi occhi che si volsero un istante verso di lui quindi si posarono sul giardino i due rimasero a lungo in silenzio come se il resto del mondo non esistesse nel cielo nuvole pesanti turbinavano coprendo le ultime deboli tracce d'azzurro mentre l'oscurità del primo crepuscolo cominciava ad approfondirsi la pioggia si abbatteva nuovamente fitta e scrosciante sul regno assediato di calla horn e manion notò distrattamente con sollievo che sull'isola di kern sarebbe calata una notte nera e il lune fu parecchio tempo dopo mezzanotte mentre la pioggia ancora cadeva e il cielo notturno era sempre oscuro e impenetrabile che manion leas finito salì faticosamente su una piccola rudimentale zattera ormeggiata in una baia sulla costa sud occidentale dell'isola due braccia esidi si tesero verso di lui e gli si avvide con stupore di fissare gli occhi di shirl ravenlok l'aveva aspettato come aveva promesso benché lui l'avesse pregata di unirsi agli altri quando fosse cominciata l'evacuazione confuso e ferito l'abito lacero la pelle bagnata dalla pioggia e dal sangue delle ferite si lasciò avvolgere in un mantello asciutto mentre entrambi si rannicchiavano in attesa fra le ombre della notte alcuni erano ritornati con manion altri stavano salendo a bordo ora sfiniti per la battaglia ma selvaggiamente orgogliosi del coraggio e dell'abnegazione che avevano mostrato quella notte sulle pianure a nord di kern mai il principe di lei aveva assistito a una tale dimostrazione di ardimento di fronte a una situazione impossibile i pochi uomini della famosa legione della frontiera avevano imperversato per l'accampamento nemico al punto che questo a quasi quattro ore dall'incursione iniziale era ancora in subbuglio la schiera avversaria era innumerevole migliaia e migliaia di soldati brulicanti che si abbattevano contro chiunque li capitasse tiro arrecando morte e ferite persino ai propri compagni non erano spinti soltanto da paura o odio mortali erano guidati dal potere inumano del signore degli inganni la cui furia incredibile li agitava nella lotta come essere impazziti senza alcun proposito se non quello di distruggere eppure gli uomini della legione le avevano tenuti in scacco respinti più volte ma sempre pronti a serrare le file e a tornare all'attacco molti erano morti menion ancora non sapeva quale miracolo avesse salvato l'esile filo della sua vita gli ormeggi furono allentati sentì che la zattera cominciava a staccarsi dalla spiaggia mentre la corrente se ne impadroniva spingendolo al centro del mermidion in piena qualche attimo dopo si ritrovarono nel canale principale scendendo silenziosamente lungo il fiume verso la città di tirsis dove il popolo di kerna era fuggito alcune ore prima nel corso di un'evacuazione di massa eseguita alla perfezione 40.000 persone ammucchiate su zattere gigantesche o su piccole barche erano scivolate via via dalla città assediata mentre le sentinelle nemiche appostate sulla riva occidentale del mermidion tornavano in tutta fretta all'accampamento principale dove stando alle apparenze era in corso un attacco in piena regola dell'esercito di cala horn la pioggia martellante lo scrociare del fiume le grita dell'accampamento avevano nascosto i rumori della gente che si allontanava in fuga timorosa disperata verso la libertà anche l'oscurità del cielo aveva contribuito a nasconderli e il coraggio collettivo li aveva sostenuti almeno per il momento erano sfuggiti al signore degli inganni benion cadde in uno stato di transognato stupore avvertendo soltanto una gradevole sensazione di un dondolio mentre il fiume li trasportava verso sud strani sogni lampeggiavano attraverso la sua mente inquieta mentre il tempo si dilatava in lunghi istanti di pacifico silenzio poi esplodendo nel suo inconscio alcune voci lo raggiunsero costringendolo a svegliarsi bruscamente e i suoi occhi furono feriti da un vasto bagliore rosso che riempiva l'aria intorno a lui sbattendo le palpebre si sollevò dall'abbraccio di shirl e il suo volto scarno apparve disorientato di fronte al bagliore rossastro intenso quanto la luminosità dell'alba shirl gli parlava sommessamente con voci debole e straziante hanno bruciato la città manion tutta la città hanno bruciato la mia casa manion abbassò lo sguardo e strinse il braccio esile dalla ragazza anche se la popolazione era riuscita a fuggire la città di kerna aveva visto la fine dei suoi giorni e con terrificante grandiosità si stava spegnendo in cenere grazie a tutti